Un'edizione extra large che ci ha fatto godere di tante cose belle, credo che siano riuscite tutte quante, siamo soddisfatti di come è andata, non abbiamo avuto problemi e penso che questa sera con la chiusura del Via Doremi sarà una grande festa. Un festival che per presenze ha segnato un record storico nella storia della nostra manifestazione, oltre 21.000 presenze hanno accompagnato questi 17 giorni di spettacolo, quindi un dato che ci lascia profondamente soddisfatti e che ci conferma anche quello che un po' ci aspettavamo, che si è fatto squadra con il capitale della cultura perché abbiamo segnato un notevole incremento delle presenze italiane, storicamente inferiori rispetto agli stranieri, un incremento che ragionevolmente possiamo supporre che sia stato frutto anche della spinta del titolo di capitale italiana della cultura. Le prossime settimane potremo fare delle analisi anche più dettagliate di numeri, ma intanto rimane la grande soddisfazione di questo numero molto importante. Ci eravamo prefissati l'idea di superare questa soglia psicologica delle 20.000, l'abbiamo superata abbondantemente, quindi siamo molto soddisfatti. Il Rossini Opera Festival rimane un'iniziativa strategica per la promozione culturale non solamente di peso di tutto il suo territorio, ma io penso a livello regionale, e quindi sarà un festival che continueremo a sostenere perché il ROF è veramente quell'iniziativa che noi abbiamo ormai fortunatamente da molti anni, che dà un valore aggiunto a tutta la cultura del nostro territorio. Devo dire che l'auditorium è comunque un luogo bello perché è nel centro della città, quest'altro anno vorremmo riaprire anche il Pedrotti, quindi riuscire a fare tutte e tre le opere nel centro storico della città. Ovviamente non ha le dimensioni che ha il Palace, dove lì anche il livello di scenografia e sicuramente gli spazi sono più importanti. C'è stato qualche problema all'inizio, piccoli problemi che abbiamo cercato di poter risolvere in tempi rapidi, quindi abbiamo anche i prossimi mesi per cercare di rendere questo auditorium sempre più in linea con quelle che sono le esigenze che il ROF fa.